Ciao a tutti e bentrovati sul mio canale Feri ASMR Grazie per aver scelto questo video rilassante Oggi soddisferò una richiesta che mi viene fatta continuamente ed è quella di realizzare un video completamente in inaudible Per chi non conoscesse questa tecnica si tratta di una modalità di parlato molto molto particolare durante la quale non percepirete il significato delle parole che pronuncerò ma solo dei suoni, dei lievi suoni della bocca giorgessi Spero che possa rilassarvi tantissimo e questa volta ho deciso di tenere il microfono un po' più distante rispetto al solito perché vorrei comunque mantenere i mouth sounds più delicati Bene, iniziamo subito dopo la sigla ma prima saluto con moltissimo piacere alcuni tra gli abbonati del mese ringraziandoli veramente tutti, 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 tutti e ci sono i loro nomi qui c'è un infobox in particolare quelli che saluto sono Ciao ragazzi Ciao ragazzi, un salutino speciale a voi e un grazie a tutti coloro che per questo mese di settembre sosterranno il canale Vi ricordo che nell'info box ci sono tutti, tutti, tutti i loro nomi e in più che c'è anche il link Amazon per acquistare il diario agenda ASMR se non lo avete già fatto, fatelo subito potete acquistarlo anche con il bonus cultura e anche attraverso Amazon Prime se ce l'avete ed ora lascia un like a questo video se l'idea ti piace e se non sei ancora iscritto o iscritta puoi farlo adesso cliccando la campanella per non perdere le prossime notifiche non perdiamoci in chiacchiere, iniziamo dando la campanella la giornata della programma del libro di Procuro del libro di Procuro pronti si deve lasciare un cibo e poi a continuare a prenderci e poi prendi un cibo 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 dov'è una parità ancora in quinto punto di creazione di dentro consigli che potrete fare piccoli presenti in casa, l'unico tra il testo, tutto il dente, tutto il pietro, tutto il cuore, tutto il cuore, tutto il cuore e il cuore, tutto il cuore, tutto il cuore, tutto il cuore, tutto il cuore per il cuore per la testa, pensando a cosa mi raccomando farlo facciarlo, perchè ti raccomando che il disagio sia il diritto del tempo, se lo ricarico in tutto il giorno, la prima volta avrete ancora un po' di breve, attraversando tutto quello che voglio avrete il diritto, e lettere un forzatore, l'ocento, lo scrivere, perchè il piccolo materno di queste parole sia il mio rapporto avrete il tecno, un passaggio interiore, e l'apparenza di veri sui. il vento è quello che adesso non lo pensiamo a vedere, se le prime hanno per il veneto, cercherli attraverso ciò che siamo, non sappiamo se una cosa stia, forse arrivare il punto di farò la pelle di coppia, un altro pezzo di cammino, non si possono fare grazie, però l'epoca di sentire, secondo il cittadino di diventiti, però lo possibile è solo un problema io ricordo il fatto che il fatto è importante non vi rende l'acquisto la care dice, mentre洗 Printle non si Madam, non si non si che è un progetto 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 potrò di sensazione, pura pizzi, a me, no, che con gli occhi, come la ditta, che bell'entata prendo piccola incendina, non talmente la mia, non si sa preparata le 5.000 incendie non mi salverò nessuno, non mi salverò nessuno, ma belle, non mi permesso non mi perdere il suo bello come la luma non è d'altro che una rosa con un più grande lanza con un grande ruppettorio che diceva si tratta di pesonne del piccolo non so se non si rilassi si tratta di pesce 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 perché ne raccomi il cammino perché la per colpa una nuova voce roma per un ruolo di buono, perché non tratti alla capacità, chi concheri, a te e a te per contattuale il mio video è un procedimento con le voce, con le voce, in grado data corretto totalmente a tale voce, a tutti l'altra vita e a tre, a ritratto, per delle simbolette per agli amici, a cutola e per il portino importante il mio video a giudicare un attacco di veicoletti, il proprio interventi, non cominciare il mio change, la creatura di uno per due ragioni crea un transforgancio per 50 per aver risultato di venerdere al costante della vostra la mia vita è con tutta la creatura prima di aver contratto l'entrapposo 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 il centro l'entrapposo ora l'entrapposo sb che si per questo sarcavi un bisogno perchè sono niente di droghe ora potete cercare l'opposizione con i denti tu prendi il mondo della cosare tra le parole di un giorno sabbolo del cretel lo dici una cosa che è cretel tu cura il ratero mi cura il bro per saluto per saluto per saluto per saluto per saluto per saluto un momento ti coprei controlli cuori il bloc de la roma delle momenti su per come per i ritornati per le par material ... esempio per 18 da l'argo, tu, te la spi, io vieni tu, 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 tu dobbiamo farci ancora un vento per il teatro la prima volta il calote è finito non esiste un regolo può essere bello farlo contanto per il sonore per quello sento per il sonore quello che è come trovare il corpo tratturarlo tratturarlo controllo tratturarlo controllo tratturarlo controllo come a più da secoli di pregno di pregno di pregno di pregno di pregno di pregno spero spero ti sia piaciuto non ti dimenticare di farvelo sapere lasciando mi piace e un tuo pensiero felice qui sotto e noi ci vediamo come al solito se ti va nel prossimo video bacini fatosi ci vediamo ciao 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 ciao